Buongiorno, buon venerdì, mi sono appena preparata il cappuccino, adesso faccio colazione, poi voglio fare una scappata lì del veloce perché visto che stamattina è uscito lo stendino come quello che avevo già acquistato un paio di anni fa e che non ho più trovato, lo volevo uguale quindi vado dopo a prenderlo e poi stamattina devo prendere anche come tutte le mattine ormai da 10 giorni questi integratori della Skin Good Garden, questo in particolare è quello per migliorare l'aspetto della pelle e poi stamattina mangio anche lui quart cake della molino bianco con crema al limone all'interno, non è male, sinceramente mi aspettavo qualcosina in più però insomma non è male, volendo si può mangiare sia freddo quindi magari lasciarlo in frigorifero oppure scaldarlo un attimino in microonde io vi dico sinceramente l'ho sempre mangiato a temperatura ambiente come farò questa mattina e tra l'altro oggi c'è anche una giornata non troppo brutta perché dopo 4 giorni di pioggia forse oggi c'è un po' di sole comunque questa è la tortina con il cuoricino e devo dire che la crema al limone dentro ce n'è, ce n'è proprio abbastanza di solito nelle brioche che si comprano confezionate o cose così, la crema dentro scarasseggia sempre un po' invece qui devo dire che ce n'è anche parecchia ed eccola, eccola qua, poi a me piace molto la crema al limone infatti questa tortina alla fine mi piace, ogni tanto ci sta mangiare anche qualcosa di questo tipo sono pronta per andare, speriamo di trovarlo perché non è detto di solito le cose più interessanti se non si va la mattina presto è difficile trovarla, comunque sono le 10 quindi speriamo bene anche perché è uscito stamattina quindi se penso di trovarlo vediamo sono appena rientrata a casa e rullo di tamburi non l'ho trovato ma l'ha trovato mia mamma perché abita in un altro comune e quindi me l'ha comprato lei qui da me non ce n'erano più, mi hanno detto che ne sono arrivati soltanto 7, insomma 7 stamattina e alle 9 erano già tutti finiti quindi niente, meno male che l'ha trovato lei così me l'ha preso anche perché è uguale a quello che già avevo, che avevo acquistato due anni fa e lo volevo uguale perché innanzitutto sapete che mi piace avere tutto in palette poi è bello resistente, costa poco, mi piace proprio e vedo che lo sfrutto tanto ed uno era un po' poco, ne abbiamo un altro, un altro stendino verticale però mi trovo meglio con quelli orizzontali e quindi ho aspettato di ritrovarlo a Lidl però non usciva più è passato davvero tanto tempo oggi appunto usciva però sono andati tutti e invece sono andato a mal trovato quindi meno male me l'ha preso, domani tra l'altro vengono qui per finire il pavimento quindi me lo porta dopo magari vi faccio vedere com'è quello che ho già in casa è praticamente uguale, è tutto bianco con qualche dettaglio azzurro e visto che lavanderia, i colori sono il bianco, l'azzurro e il legno volevo insomma tutto uguale poi ripeto, costa poco ed è davvero pazzesco comunque sono ancora con il giubbino, la borsetta ho fatto però una spesa velocissima lì del giac e cero quindi sono arrivata a casa, ho messo via tutto specialmente ho preso cose che andavano in congelatore quindi sono tornata a casa le ho sistemate tutte, ho svuotato la spesa ho preso anche i tulipani c'erano i tulipani e le rose di questi invece ce ne erano tantissimi devono ancora fiorire per bene in realtà come vedete adesso li vado a mettere nel vaso con l'acqua così sono a posto poi una volta sistemata la spesa sono dovuta subito scappare per questo che i tulipani non sono ancora nel vaso sono dovuta scappare dalla commercialista perché avevo l'appuntamento mi ha preparato il conto annuale ad avere la parte IVA ci sono dei costi quindi mi sono fatta preparare insomma il conto così nei prossimi giorni faccio anche questo pagamento adesso vado a cambiare perlomeno mi tolgo soltanto il giubbino anche perché sono comoda ho dei leggings e una camicetta però tolgo la borsa perché alla fine sono ancora con la borsa al collo poi oggi pomeriggio devo andare anche a lavoro quindi al fine già che sono vestita resto così poi vado solo a cambiarmi la maglietta mi è arrivato anche un pacchettino che ho già aperto perché sono arrivata a casa ho trovato un pacchettino qui sulla cucina quindi è passato un corriere ho già aperto perché ero troppo curiosa e adesso vi faccio vedere cosa mi è arrivato però prima sistemiamo questi fiori poverini perché altrimenti tulipani messi sono come vi ho detto prima ancora chiusi devono fiorire però li ho presi così almeno mi durano più a lungo e poi ho lasciato questo diffusore di evamerio di genero che sta molto bene perché il colore è quello dei tulipani quindi perfetto comunque vi faccio vedere anche il pacchettino che mi è arrivato che sono già andata ad aprire arriva da i dettagli è una ragazza che ha una pagina instagram dedicata a accessori comunque complimenti d'arrido per la casa e mi ha mandato questo bellissimo porta chiavi con la mia iniziale in lilla questa sfera e questa nappina molto molto carino questo probabilmente lo andrò a mettere alle chiavi del garage quelle che poi mi aprono il garage dove devo mettere la macchina visto che il porta chiavi che c'è adesso è un po' rovinato vado a cambiarlo con questo che trovo davvero bellissimo comunque cambiando discorso ieri è venuto l'elettricista a casa e ci ha cambiato gli interruttori in taverna sapete che vi avevo raccontato che volevamo fare anche questo cambiamento in taverna e quindi riprendere gli interruttori che abbiamo in casa l'unica cosa è che non si ricordava le placche che avevo scelto il modello e quindi mi ha detto quella è comprare le tec così insomma sai di non sbagliare quindi le recupero io perché tanto so già dove ordinarle le faccio trovare da internet comunque le placche che abbiamo noi sono queste e gli interruttori sono della Vimar il modello è modello archè e questa è la placca ghiaccio bianco ghiaccio total white anche con il bordino laterale bianco mentre invece quelle che mi aveva procurato lui la prima volta infatti poi le avevo fatte cambiare avevano laterale qua il bordino nero invece le volevo total white e appunto mi ha cambiato tutti gli interruttori adesso scendo così vi faccio vedere e ho recuperato una placchetta così vi mostro poi effettivamente come è il risultato anche perché sulla parete tortora quella della cucina risaltano davvero tanto mi piacciono come ci stanno queste sono tutte quelle che c'erano prima e che abbiamo tolto sempre della stessa marca quindi sempre della Vimar ma è il modello quello decisamente più vecchio questa è invece la luce d'emergenza che quando salta la corrente queste in automatico si accendono per illuminare a casa devo dire che sono molto comode ma hanno dei prezzi esagerati specialmente quello nuovo ad incasso che abbiamo fatto mettere a led che poi è quello lì vediamo se mette a fuoco ok ha messo anche il termostato della Bticino che avevo preso su Amazon in realtà questo è quello che avevamo in casa che abbiamo fatto smontare e portare giù mentre quello che ho comprato il mese scorso l'abbiamo messo in cucina perché quello si collega anche con Alex quindi dicendo da Alex di accendere il riscaldamento parte da solo quindi molto comodo gli interruttori invece sono questi quindi tutti bianchi opachi con il led all'interno che resta sempre acceso sia quando la luce è spenta che quando la luce è accesa questa però è una mia scelta volendo si possono tenere spenti quando la luce è accesa e tenerli accesi quando la luce è spenta così da avere un riferimento però io li volevo sempre illuminati quindi sono sempre accesi adesso vado a mettere le placche ne ho prese qualche d'una al lobby ieri le ho trovate ma tipo 4 o 5 adesso non ricordo quindi vado a mettere quelle che ho e poi andrò a comprare su internet quelle che mi mancano anche perché al lobby hanno soltanto la placca da 3 posti qui ad esempio questa che è da 4 oppure questa che addirittura da 7 non ce l'hanno e quindi devo ordinarle da internet già che devo ordinare questa e questa qua ordino anche quelle che mi mancano ed eccole posizionate finalmente ci stanno benissimo vi faccio vedere anche quella che ho messo qui poi vi faccio vedere anche qui cosa ci ha messo infatti quando l'ho visto ho detto bravo sei stato un genio ci ha messo questo tasto con due porte usb comode per ricaricare ad esempio il cellulare quando siamo seduti sul divano tra l'altro ce ne sono due quindi comodissimo fatto questo salgo che devo anche iniziare a preparare qualcosa per pranzo perché nel frattempo si è fatta ho spento tutto si si è fatta ora di pranzo ragazze perdonatemi ma c'è stato un salto temporale pazzesco perché poi avevo la batteria scarica l'ho messa in carica abbiamo preparato il pranzo meglio ho preparato il pranzo una cosa molto veloce perché steda quando ha cambiato lavoro è ufficialmente sempre nello studio in quella stanza inizia alle 9 e stacca alle 8 di sera tutti i santi giorni dal lunedì al venerdì è molto 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 preso e praticamente io preparo il pranzo ci sediamo giusto 10 minuti per mangiare insieme poi lui di nuovo stacca e torna a lavorare una cosa proprio esagerata spero sia così soltanto adesso che all'inizio e poi piano piano la cosa si alleggerirà un attimino perché altrimenti c'è puretto la sera arriva a casa cioè arriva a casa è a casa però arriva a cena che è distrutto e mangiamo sempre molto tardi tra l'altro io stasera vado cioè stasera fra poco vado a lavoro e torno stasera alle 9 lui sicuramente avrà finito da poco lavoro quindi ci ritroviamo prepariamo qualcosa per cena e mangeremo tardissimo da quando sono tornata a lavoro perché sono ufficialmente tornata anche a lavoro da questa settimana non ve l'ho detto però ovviamente essendo guarita dal covid ed essendo tornati cioè non più non essendo più in zona rossa ma ormai siamo zona arancione hanno riaperto centri commerciali quindi alla riapertura sono tornata anch'io è stato bello diciamo un po' tornare alla normalità poter muovermi spostarmi senza problemi e tornare a lavoro o almeno sembra una vita un po' più normale perché stare chiusa in casa era proprio diventato pesante quindi ho ricominciato anche la mia routine di lavoro anche se sono comunque sempre stata occupata e in realtà ho sempre cose da fare tipo oggi sono tiratissima però ci tengo sempre a filmare qualcosina se riesco e oggi ho deciso di fare un vlog ho acceso anche una candila dopo pranzo questa è di Ava May ed è la candila Cambogia adesso ve la faccio vedere ha un profumo strepitoso ha acceso tipo da un'oretta un'oretta e mezza forse qualcosina in più e c'è un profumo in casa proprio di un profumo dolce di non di dolcetto perché non ricorda proprio un dolcetto appena sfornato però ha un profumo piacevole primaverile non so mi piace molto però c'è accesa anche la stufa perché seppure fuori fa caldo in casa ma un pochettino meno avendo spento riscaldamento al pavimento quindi una fiammatina ogni tanto devo essere sincera la do ancora anche se siamo quasi a fine aprile metà aprile questa è la candila forse ve l'avevo già fatta vedere quando mi è arrivata diverse settimane fa e nel formato maxi come vedete è gigante ci sono infatti quattro stoppini e più stoppini ci sono più la fragranza ovviamente è più intensa e si sente maggiormente in casa poi avendo l'open space comunque molto grande che si sviluppa anche poi su di sopra il profumo insomma va e si espande un po' per casa quindi volevo qualcosa di bello strong oggi appunto acceso lei che è la candila cappadocia e la fragranza è un mix di vaniglia mela il tè nero è davvero buona 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 e poi come sempre qui c'è il diffusore comunque spero che nei prossimi giorni i tulipani fioriscano perché visti così insomma sono un po' brutti però diamogli diamogli del tempo qualche giorno giusto prima di partire devo segnare un paio di cose sull'agenda perché altrimenti mi dimentico meno male che c'è lei la santa agenda che mi salva almeno mi segno tutto se no rischio di dimenticarmi e la lista di oggi era lunghissima però ho fatto quasi tutto ma adesso sono tirata perché devo andare a lavoro sono le non vedo nulla non vedo nulla 20 alle 4 quindi è arrivato il momento di andare a cambiarmi perché devo partire ci vediamo stasera o se stasera non ho le forze di registrare nulla ci vediamo addirittura domani perché come vi ho detto viene mio papà che finiamo di sistemare il pavimento quindi potrei allacciarmi anche la giornata di domani quasi quasi ad hoc rieccomi oggi è sabato stiamo a casa stamattina l'ho proprio presa con calma mi sono fatto una bella maschera ho sistemato un po' il bagno ho dato una pulita al bagno e adesso devo preparare il pranzo a fine poi ieri sera come avete notato non ho registrato nulla siamo arrivati a casa sono arrivata a casa tardi alle 9 e 9 passate in realtà abbiamo cenato e poi sinceramente non abbiamo non ho più preso in mano la telecamera ieri però mentre ero a lavoro è arrivato questo mega pacco perché è praticamente alto come me mi allontano così vi faccio vedere quanto è grande adesso lo apro so già in realtà quello che c'è all'interno però vado a spacchettare perché ieri quando ce l'hanno consegnato io non ero a casa appunto perché ero a lavoro stella ha lasciato fuori sul portico sono arrivata a casa io alle 9 e insieme poi l'abbiamo portato dentro però essendo tardi non avevo voglia di mettermi ad aprire tutto quindi lo faccio questa mattina e questa è la situazione dopo aver aperto tutto un bellissimo casino adesso andiamo a sistemare tutto comunque sono delle luci che dobbiamo mettere alcune in taverna alcune in casa insomma abbiamo un po' da fare finalmente abbiamo finito di sistemare il pavimento ieri poi non ho più filmato niente ieri pomeriggio ho iniziato la registrazione come avrete visto però poi non ho più filmato perché abbiamo avuto un po' di problemi non pochi in quanto in realtà questo tipo di pavimento va installato partendo da una parete e andando poi via via verso l'altra parete essendo che noi questo lavoro l'avevamo fatto ma nella zona sotto la cucina non era stato inserito il pavimento perché la cucina non era stata smontata e qui dico abbiamo sbagliato era meglio smontarla e poi rimontarla però non avevamo in mente di cambiare subito la cucina ma quando abbiamo visto tutta la taverna sistemata quella cucina non c'entrava niente era proprio uno stile completamente diverso era un pesce fuori d'acqua e quindi io e se ne abbiamo parlato un attimino e poi abbiamo detto sai che c'è già che siamo in ballo balliamo completamente quindi abbiamo deciso di cambiarla e quindi c'era da fare questo lavoro completare il pavimento un consiglio che vi do visto l'esperienza di ieri se avete intenzione di ricoprire il pavimento della vostra casa di una stanza con questo materiale quindi un pavimento ad incastro che viene applicato sopra un pavimento esistente il mio consiglio spassionato è quello di avere la stanza completamente vuota completamente se c'è una cucina a maggior ragione vi consiglio di smontarla perché se poi decidete in un futuro di andare a cambiarla andare ad aggiungere i pezzi che mancano sotto la cucina è complicato infatti noi abbiamo dovuto smontare il pavimento ebbene sì abbiamo dovuto togliere tutto il pavimento in questa zona della cucina proprio in quest'area abbiamo praticamente dovuto smontare per fare questo pezzettino tutta quest'area quindi abbiamo tolto tutto il pavimento e l'abbiamo rimesso perché essendo ad incastro gli angoli i pezzettini che mancavano qui erano da incastrare con il listone che c'era davanti ma con il listone che c'era anche dietro e anche davanti di là ed era impossibile infatti alcune piastrelle alcuni listone si sono rovinati e li abbiamo dovuti eliminare abbiamo proprio dovuto buttarli perché si segnavano praticamente qui dove c'è la gommina adesso non si vede perché sono installati però qui sotto c'è una gommina e si e si era rovinata in certi punti si era anche sollevato e quindi abbiamo dovuto fortunatamente avevo il materiale quindi abbiamo eliminato quelli rovinati e abbiamo sostituito con i listoni nuovi quindi andando a togliere tutta questa parte qua praticamente abbiamo dovuto rifare il lavoro della cucina abbiamo praticamente messo tolto e rimesso il pavimento è stato abbastanza impegnativo ma alla fine è uscito un lavoro perfetto perché mio papà è stato bravissimo io gli ho dato una mano però il di più l'ha fatto lui adesso qui per forza di cosa abbiamo dovuto togliere il battiscopa perché non riuscivamo ad incastrare l'ultimo listone quindi l'abbiamo tolto fortunatamente il muro non si è rovinato troppo e quindi andremo poi a rimettere il battiscopa qui e verrà messo ovviamente anche qui dove manca adesso che lo vedo sistemato ho un grande una grande soddisfazione ma ieri non sapevamo cosa fare anche perché inizialmente la nostra idea è quella di andare a prendere le misure dei pezzi mancanti quindi quelli che erano rimasti sotto la cucina e andare semplicemente ad inserirli come un puzzle ma non è così semplice è impossibile praticamente andare ad inserirli in un secondo momento perché non è una pestrella normale che viene posata poi viene fatta la fuga non è così perché deve essere incastrato con gli altri listoni e quindi abbiamo dovuto alzare tutto ma all'inizio ci siamo fatti prendere un po' dal da questo problema non sapevamo cosa fare perché il nostro dubbio era quello di dover togliere tutto rischiando così anzi senza rischiando sapendo di rovinare tutti gli stoni che erano già stati posati quindi messi e dopo qualche mese tolti da buttare era un gran peccato e poi il materiale forse non ci sarebbe neanche bastato poi mio papà è uno molto preciso se non esce un lavoro fatto bene non lo vuole fare o comunque non poi ovviamente non è soddisfatto del risultato quindi ragionando 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 ci siamo un attimo calmati perché eravamo proprio in preda al panico perché che cosa facciamo adesso abbiamo un pavimento nuovo ma che non è stato poi installato bene quindi cosa facciamo come risolviamo questo problema alla fine abbiamo sacrificato diciamo così una zona la zona centrale abbiamo tolto dei listoni al centro e ne abbiamo buttati tipo 4 o 5 quindi in realtà anche pochi ne ho fatto tutto sommato è stato bravo è riuscito a salvarne tanti e poi da lì siamo andati via via abbiamo messo quelle che mancavano quindi abbiamo sistemato bene tutta quest'area e alla fine siamo riusciti a completare tutta la tutta questa stanza quindi ripeto consiglio spassionato se volete fare un lavoro di questo tipo togliete tutto quello che c'è nella stanza cucina mobili qualsiasi cosa anche se dite no la cucina tanto che non la cambierò mai toglietela smontatela perché non si sa mai quindi piuttosto che fare un lavoro come abbiamo fatto noi è meglio pensarci prima e andare via via io non ci ho pensato quando abbiamo deciso di mettere il pavimento di smontarla perché pensavamo appunto di tenerla a lungo e invece cioè non la vita però a lungo e invece poi non è stato così comunque direi di chiudere qui questo vlog perché alla fine è durato tanto e sono stata in ballo tipo tre giorni con questo video però spero lo stesso di avervi tenuto compagnia se è stato così facciamolo sapere con un pollicino in su ed iscrivetevi per non perdervi i prossimi video un bacione a presto ciao 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 Grazie a tutti.